Cigelle, Cisl e Will in piazza per difendere la sanità pubblica proprio nel momento in cui la sua tenuta è messa a dura prova. Anche nella BAT i sindacati confederali hanno aderito all'iniziativa promossa sul territorio nazionale per evidenziare il ruolo fondamentale dei lavoratori del comparto sanitario. Con al fianco i lavoratori del pubblico impiego, gli operatori sanitari si sono ritrovati davanti all'ospedale Bonumo di Andrea per rivendicare l'importanza del diritto alla salute. Oggi siamo qui a sostenere il servizio sanitario pubblico, il lavoro pubblico e la valorizzazione di questo importante diritto che è il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. Ecco perché qui oggi nella BAT Cigelle, Cisle e Will stanno manifestando a sostegno di tutti i lavoratori esprimendo la loro solidarietà per il superamento dell'emergenza Covid e per chiedere soprattutto un piano straordinario di assunzioni, garanzia di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute pubblica e cittadini. Sicurezza, rinnovo del contratto ed assunzioni per gli operatori sanitari. Queste le richieste rivolte alle istituzioni dai sindacati. Gli operatori sanitari che sono i primi ad essere a rischio dal punto di vista della loro sicurezza. Per questa ragione chiediamo percorsi differenziati, chiediamo più tamponi, chiediamo più controlli e chiediamo soprattutto un innesto straordinario di risorse umane che in questo momento sono la principale necessità che abbiamo all'interno dei nostri ospedali e delle nostre asle, ma chiediamo anche che funzioni la medicina territoriale che potrebbe dare ossigeno alle strutture ospedaliere che sono al collasso. Non è mancato un riferimento ai negazionisti e a coloro i quali negano la presenza del virus e con esso i rischi corsi da chi è in prima linea per fronteggiarlo. Le immagini e i racconti che ci provengono da parte di chi è impegnato sul fronte di questa guerra non possono tollerare che ci sia ancora chi dice che non solo il virus non esiste ma che bisogna continuare a deregolamentare. Noi pensiamo il contrario e pensiamo anche che sia necessario che tutti quanti facciano la propria parte proprio per dare una mano a chi è in prima linea e su questo fronte sta combattendo.